602 Mosca a Belgorod respinto, 50 nemici uccisi Mosca ha dichiarato aver respinto ieri sera un tentativo delle truppe ucraine di invadere la sua regione sud-occidentale Belgorod. Complessivamente, L ha coinvolto fino a 70 miliziani, 5 carri armati, 4 veicoli blindati, 7 camioncini e un camion Kamaz, ha detto ieri sera il Ministero della Difesa russo, riferendo di almeno 3 tentativi di attraversamento. Mosca afferma di aver usato l'aviazione e l'artiglieria per respingere gli attacchi, uccidendo più di 50 combattenti ucraini. 705-15 missili da crociera colpiscono Kiev L. Russo di stanotte a Kiev è stato effettuato utilizzando 15 missili da crociera e 18 droni condivisi. Tutti i droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea della città. Lo ha riferito via Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Nelle prime ore del, l'amministrazione militare della città di Kiev ha segnalato l'abbattimento di 30 droni, numero ora corretto. È il sesto giorno del dei droni russi alla capitale ucraina. 833 Bakhmut 60.000 e più 60.000 russi sono o sono rimasti feriti nella campagna militare di Mosca per conquistare Bakhmut, nell'est dell'Ucraina. Questa la stima un anonimo funzionario occidentale, secondo cui il totale dei russi in il conflitto ha superato i 200.000. Riteniamo che la cattura di Bakhmut sia probabilmente costata alla Russia almeno 60.000 uomini nel settore Bakhmut-Popasna nel corso della battaglia durata un anno, ha detto il funzionario a Sky News. Si tratta di una stima prudente, ha aggiunto, precisando che almeno un terzo è stato. Inoltre, secondo il funzionario, nelle prossime settimane l'Ucraina potrebbe lanciare la prevista controffensiva. 914 Un carro armato di partigiani russi a Belgorod I partigiani russi della Freedom Legion of Russia hanno pubblicato su Telegram una fotografia del loro carro armato in una zona rurale della regione russa di Belgorod. Il nostro carro armato con la bandiera della libertà di Russia nel villaggio di Novaya Tavolzanka, vicino a Shebekino. Buongiorno dalla nostra terra. De per la Russia. Legge il messaggio. Mosca aveva annunciato ieri di aver respinto un tentativo di invasione ucraina del suo territorio con carri armati e soldati. Novaya Tavolzanka si trova a est di Belgoro dal confine con L-Ucraina, a circa 60 km da Kharkiv. 950 bombardamento a Zaporizia un civile un civile e altri due sono rimasti feriti durante i ardamenti russi di ieri nella regione di Zaporizia lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Yuri Malashko, riferisce Ucrinform. 1017 Cina rimane alto il rischio di escalation Il rischio di escalation della crisi in Ucraina resta alto. Lo ha detto Liui, l'inviato speciale cinese sulla questione ucraina, nel briefing della sua missione di due settimane in Europa, conclusasi a fine maggio per trovare una soluzione politica. Tutte le parti, ha aggiunto il diplomatico, hanno apprezzato il nostro ruolo G. L Grazie a tutti